Ciao ragazzi, un nuovo video oggi è una giornata di inverna. Allora, perché dico questo? Benvenuti alla nuova serie dove dico la mia storia, della mia ex. Allora, oggi ho una, oggi, su Instagram, va dietro, io gli ho detto, voglio essere la mia amministrazione? Ok. Due minuti dopo, due minuti dopo, che è successo? Allora, io a notte mi assaggio sempre a notte, no? Allora, non so, c'è una varia, vengo il telefono e c'è un po' sui carriamme. Vengo sui carriamme, vengo sui carriamme. La, la messaggio, un'arguata, 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 un'arguata. Cuomo poi parlava l'edo. Poi, soprattutto, lo chiamavano. Pasquinho... e poi la prima quando mi sono vellato per fare un video proprio, la seconda volta l'ho chiamata chi è, ciao, ciao, come stai io detto e vado a rubino, io sono Bruno, non c'ho, non c'ho, non c'ho, non c'ho il clichot per farlo vedere, perché l'ho cancellata da rubino, l'ho lasciata, l'ho lasciata perché non mi, non mi incurava proprio, cioè non mi, cioè non mi scriveva, non ha, niente proprio, proprio niente, vostro amico, la blocco di nuovo e la blocco di nuovo, perché c'è uno, non puoi essere una donna, una donna che dici, c'hai un bigazzardo e c'hai un bigazzardo che dici, c'hai un bigazzardo, no, ma invece lei non gli rifiuto un cazzo, non gli rifiuto un cazzo, chi è? Questa è la quattrenza che ho avuto, eh? Perfetto. E io, soltanto io l'ho lasciata per chiamarlo il rogione, se stai vedendo questo video, non me ne fico un cazzo se mi riusci, non me ne fico un cazzo. se mi riusci, non me ne fico un cazzo. E, vabbè, lì, la mia storia che ho avuto da, da, da volte, mi impiego, la mia storia che, che ho avuto, e ho avuto con sempre l'ora, e sempre lei non ho avuto, io, stavo insieme a lei, e c'è un buco, è la, è la notte. Io, io, non mi rasconderò mai, e sono, 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 cazzo, 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 cazzo. E, allora, stavo insieme, è vero, stavo insieme, avevo fatto notte, non volevo, cioè, non voleva lei, che andavo sulla casa, perché mi, mi mancava una mèvre, non è, mi stava molto piacendo che a salire sopra a casa, e, niente, e poi è successo, è successo niente, e poi a salire l'ho chiamata subito, perché voleva, oh, chiamami, poi quando vai su, l'ho chiamata, c'ha, 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 l'ha chiamata, c'ha, 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 c'ha. E poi la seconda volta, quando va lasciato, ha visto Luciano, porca gioia, io ho fatto, porca gioia, ma non lo chiamiamo subito va chiamato il paulino Lusciano e va detto Massimo cellula come cellula? dov'è? e anche se lo riprendono io faccio Lusciano prende la roba e va io credo vengono a casa io ti giuro che se succede di nuovo io prendo la polizia mi la porto nella tua casa e la dico rimunciare questa cazzo di bambina di merda e io non ce la faccio più giuro avremo un rimunciare però ho detto lascia bene quella roba in pratica che c'è bene lascia bene lascia bene lascia bene la seconda volta quando uscire con Mario mio amico che si chiama lo si ho visto una io faccio oh mio dio quando mi sono girato quando mi sono girato l'ho vista proprio oddio mio io ho fatto dire niente non dirne niente ho fatto dire niente e ho fatto il cappuccio quando mi sono girato quando vuoi dire un cappuccio e sono gravato ma il padre mi guardava se mi diceva una cosa gli passavo il bar perché io sono andato al bar a fare un cappuccio con Mario mio amico e poi e poi ci avevo messo un attimo ad andare via ma ti giuro se mi diceva qualcosa che ci vuol dire niente io la tua cosa quella era ficcato nel culo se mi diceva qualcosa perché mi ha fatto un cazzo un cazzo proprio perché quando stava insieme a me quando stava insieme a me io mi ricordo a memoria voleva questo cazzo rimascare rimascare quello per gli occhi io non volevo raggiungere i soldi non volevo perché la madre già era fatta nessuno e invece questa cosa per andare per andare in giro io non volevo andare in giro con me perché è matta è vero e una volta mi ha fatto vedere una foto una foto che si imbarciava con uno così a casa cercava sul telefono cercava sul telefono si imbarciava io ho fatto così e e e e e Luca Luca vorrei lavorare a far qua e ti lascio perché? perché poi vado a casa e vado a far qua io ho detto la e io io non c'avevo parole di queste ragazze perché ho avuto un'altra esperienza blu con queste ragazze perché è fatta così adesso mi ha detto che mi ha detto si che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto tre poleghi una clip senza no mi ha detto che chiamate la 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 cosa, ma che vai subire la piccola, la piccola di le actione, piccola, ok, piccola, and the action is put in there, and go there, and put in there. Ok, nope, ok, look at that. e poi la e poi la e poi ok e poi ok la e poi e poi e poi e poi poi apre più più larga ok una e poi ok ci siamo come vedete ho messo anche i costi come di rubana ora vi faccio vedere la reaction che ho fatto io su quella della di vecchio allora allora io quasi quasi stavo rinunciando a a cosa a gioia ora ti faccio vedere quel video che faccio allora ti faccio vedere quel video allora ti faccio vedere quel video non c'è una clip non ce l'ho però ok le cose a gioia che mi ha fatto molto il piacere magari i canci i cosi mamma mia che gloria che ci avevamo a scuola che ha che il colore non puoi capire non c'è 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 che cazzo non c'è non c'è mai Ah beh, eeeh, un giorno, un milio, ah, fa che c'è per la, fa ma scuola che c'è per la messa eccolo ok eccolo qua eh allora ascoltare il video e poi dopo ti dico la mia e poi vediamo ok buona visione c'era si vediamo che avessimo video allora questo video volo e ben doria perché usando una cosa e va merato la ora e va merato perché perché volevamo parlare con lei e volevamo parlare e perché perché... di questa cosa... e... voglio fare... fare... cioè amigano lei cioè io ciò che non dà o a lei per lei non mai con la qui quindi è stata soppesa a qua quindi ragazzi non li faccio più i video non gioca e... è stata soppesa a qua perché io mi sono messo a piangere non la metto nella clip perché mi sono messo a piangere che è perché non la metto nella clip perché è veramente brutta e... regalo che è veramente la veramente male e... non la metto nella clip perché è stato bruttissimo e... ma quella clip dove ho... a Giulia guarda io non ho mai sentita nominare quello di a mia madre io... quella clip era finita che 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 però... cioè io gli ho annunciato un favore, cioè veramente io... Giulia gli è più rimasto a metà me e questa cosa veramente mi ha fatto il culo, cioè... Questa è la cosa che... cioè... perché non è possibile che lo fai e prendi un ragazzo che ti piace e... cioè... però che qualcuno voglia farlo, cioè... No, questa cosa è molto strana che tu fai... cioè... prendi un ragazzo, no? Per caso fai su Instagram e metti un ragazzo buono che lo scopi 10 volte e basta, no? E quella è la cosa poi... cioè... ehm... Vabbè... Avete capito... Guardate il video e ci vediamo al prossimo video... Arriva la cosa... Alle... Alle 1 uscirà il video del YouTube Live... Che stiamo arrivati in finale... Quasi... Quasi in finale, quasi... In finale perché... Stiamo... avevo pensato una casa nuova... Che dopo... Alle 1 arriverà quel giorno... Chacchiori... Appi... 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 Chacchiori... Che...